Ninna contro Matti su StumbleGuys Chi sarà più forte? Ma cos'è StumbleGuys? Io nemmeno lo conosco Ah, visto che Ninna non lo conosce, glielo faccio vedere io Allora, questo è StumbleGuys, ok? E devi sapere che io sono fortissimo Sono fortissimo perché ho ben, guarda, guarda Già quattro personaggi leggendari Corino la volpe È un panda rosso, non è una volpe Sembra più una volpe Non capisci niente di animali E poi guarda, abbiamo il ninja, abbiamo l'astronauta E abbiamo il dottore pazzo misterioso No, è più sereno la volpe Comunque oggi ci sfideremo a StumbleGuys Per vedere chi è il primo tra noi due Che riesce a vincere una partita Ma ovviamente non io Matti Perché non so nemmeno che gioco è questo Adesso ti faccio vedere Praticamente ci sono tanti livelli divertenti E se tu arrivi nelle ultime posizioni Verrai eliminata Cioè, se arrivo nelle ultime posizioni Mi eliminano? I nuovi eventi di Ninna e Matti sono arrivati Ci vediamo il 22 giugno dalle ore 15 e 30 Al centro commerciale Maremà a Grosseto E il 23 giugno dalle ore 16 Al centro commerciale Fonti del Corallo a Livorno Vi aspettiamo Esatto Non è che vinco? No, non vinci se arrivi ultima Guarda, vuole poco ma sicuro Quindi l'obiettivo è riuscire ad arrivare sempre prima, seconda, terza Capito? Ok, ho capito Inizialmente siamo tantissimi, guarda Siamo proprio tanti Ok, non so nemmeno dove sono Eccomi Ora mi vedo Guarda, mega salto Oh no, vai Oh no, è difficilissimo Devo fare giro intorno Devo cadere, c'è il ghiaccio Ok Ah, ok, ho capito, ho capito Vedi, in questo momento io sono ultimo Quindi probabilmente perderò E secondo te io come faccio a vincere? Beh, devi concentrarti ovviamente, Ninna Che domande? Ecco Certo Qui devo stare molto attento Ma, Matti Ok No, attento Ah Sono vivo, non so come ho fatto Non so come ho fatto No, è difficilissimo questo gioco, lo so già Sai già che sono più bravo di te, vero? Sì Ok, salto qui e... Voilà, ok Vedi, ora sono nono Sono arrivato a ultimo praticamente Sono arrivato decimo su sedici Quindi mi sono qualificato Ora gioca a me? No Ora mi devo finire tutta la partita io Mi dispiace E falsacchiotti Scrivete nei commenti Chi vincerà questa sfida tra Matti e Ninna Oh Il secondo round è giocare a calcio Bello questo, eh Beh E poi tu non sai giocare a calcio Federico Chiesa sa giocare a calcio Guarda, lo sapevo che l'avresti detto Lo sapevo che l'avresti detto Invece guarda Ho appena salvato una palla difficilissima da parare E adesso vado dritto in porta Dritto in gol Vai, vai Siamo la squadra arancione I migliori Oh no, oh no, oh no Oh no, 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 no Gira, gira, gira Aiuto Ci sono tre palloni contemporaneamente Ma perché? Non ha senso Perché è difficilissimo Questo gioco è molto complicato Vuoi sapere la verità? Sì È la prima volta che lo faccio Si vede Matti Perché non hai toccato la palla finora No, 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 no Stanno per fare gol con tre palloni contemporaneamente L'abbiamo salvata Dove sono? Ok Secondo te? Ah, ma hanno fatto un gol Sì No No, devo andare subito Devo andare subito a segnare Perché siete scorsi Dai, non ci posso credere però Dai, non voglio perdere ora Non posso perdere ora Anzi Yeah Vai, fagli vedere chi sei Vai Matti Vai Matti Ma sembra difficilissimo Secondo te come faccio io a giocare? Non sono capace nemmeno a giocare Che ne so A Fortnite Beh, Fortnite se permetti È molto più complicato di StumbleGuys Ninna, eh Non lo so Non lo so Stiamo perdendo 2 a 0 Ma non me ne sono nemmeno accorto Dai Matti Stiamo facendo schifo Mancano solo 10 secondi Non recupereremo mai No Ecco 3 a 0 Abbiamo ufficialmente perso Ho perso al secondo round Uffa Oh oh Mi dispiace Matti Forse vincerò io Tranquillo Uffa Vabbè Comunque Se ancora non l'avete fatto Lasciate un mi piace E iscrivetevi al canale Perché ora siamo arrivati A 100.000 iscritti Ma dobbiamo arrivare a un milione È vero E ora la strada è molto lunga Ma prima di iniziare la tua partita Sì Vuoi provare le prezze del girare la ruota Ok Allora praticamente io ho shoppato Ho speso tanti soldi Ho speso 100 euro Sì va bene Così E se tu giri questa ruota Ad esempio guarda questa Boom Puoi trovare dei nuovi personaggi Guarda Vediamo un po' Brrrr V Oh voglio un leoncino Oh mio dio speciale No niente No Babbo Natale Babbo Natale Però non lo possiamo usare ora che è estate Beh invece puoi Basta cliccare equipaggio ora Ma no Babbo Natale C'è solo a dicembre Vuoi provare a girare un'altra ruota tu? Sì 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 Ti prego Come si fa a uscire? Ok ci riprovo Attenzione Ti prego Tu devi trovarmi lo speciale Nina Lo speciale è il personaggio più difficile da trovare Quello Ok va bene E non lo troverai No No Hai trovato uno scheletro Che schifo Vedi quello era speciale Quello verde a destra era uno speciale Ma è bruttissimo quello speciale Ma non fa niente io voglio quelli più rari che ci sono Va bene Vabbè comunque io ora voglio giocare No non voglio giocare con questo coso Hai equipaggiato lo scheletro Devi giocare con lo scheletro No Devi giocare con lo scheletro No Gioca con lo scheletro Vai Matti aiutami Non te lo dico Devi giocare con lo scheletro Passo? Ah non ci posso credere Io voglio la volpetta Non l'hai messa Non l'ha attivata Quindi è rimasta con lo scheletro Che schifo Non mi piace questo scheletro Vabbè vabbè Ti farò vedere che anche con lo scheletro potrò bene Io sono arrivato al round numero 2 Quindi per Matti mi devi arrivare al numero 3 Oh mamma mia No Matti ma è difficilissimo questo Buona fortuna Dai ma come faccio? Ok vai Ragazzi questa è ufficialmente la prima partita di Minna su StumbleGuys Ma non capisco niente Stai andando bene eh Bravissima Non so come hai fatto ma stai andando Aspetta qui eh Ma no Ok Salta salta Devi usare il tasto per saltare Vabbè ho saltato Ora Bravissima Dove devo andare non capisco Devi andare sulle piattaforme gialle Salta solo una volta non due Perché se no Eeeh Sei buttato Ti tuffi esatto Sei buttato Brava No no io devo vincere Matti Oh no No Matti Va bene va bene sta andando bene tranquilla Ok forse un po' meno bene Dai ti prego Io l'odio 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 questo gioco Non fare salto infinito No pensavo di essere morta Hai perso Eliminato Sei stata eliminata al primo round Nina Ma il primo round è quello di prova Io devo andare al secondo sicuramente Stai dicendo che ne vuoi fare un'altra Sii Ok Hai un'altra possibilità Non sprecarla Ma mi danno tutte le mappe più difficili No in realtà questa è una mappa Ma poi dove sono io Mica sto capendo Siete così tanti che non si vede Attenta che qui ci sono delle pale da bowling pericolosissime Si tranquillo Le stai schivando tutte Beh ovvio ma sono io la palar Va bene va bene va bene Va bene ok Continua Si Ma non capisco perché questo Questo scheletro è troppo scheletroso Ok calma 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 Non andare dentro al tubo Ok devi andare lì Ma io faccio quello che voglio Matti Io voglio solo provare ad aiutarti Ma poi fai come vuoi Ma si va bene Che fortuna Non ci credo Ninna Ma difficile Vai 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 salta 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 Ti sei qualificata Era una sedicesima Mamma mia che fortuna Che fortuna Ti rendi conto? Ma scusa ma se io sono stata così brava Ho schivato tutte le palle Come hanno fatto gli altri? Beh Sono stati i più bravi di te Probabilmente Ok Probabilmente Non lo so Uffa però io voglio vincere Voglio batterti Ma so che ora mi capiterà una Questo non l'ho mai fatto È uno scivolo Mi raccomando eh Qua se ne qualificano solo in otto No no È impossibile È impossibile Lo sapevo È impossibile Ma cosa devo fare? Saltare Non capisco? Sì salta Bravissima No no Ora vai sul trampolino È troppo difficile Ok Ok Ora qua non devo fare niente Sì scivola Oddio Voi anch'io andare sugli scivoli acquatici È bellissimo Salta salta Non hai saltato Eh vabbè Salta Non hai saltato in tempo Sì sì però sono viva ancora Oh no 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 Ma che cosa devo fare? Ma scusa mi dico io Ma se vedi dei vortici d'acqua Perché non salti? Ma no Non si salta Non si salta Vedi non salta Ok Non va Vai 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 Ok No No vabbè 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 Ho perso Ho perso Matti Ce la puoi ancora fare? Lì sono ancora arrivata Eh vabbè Ciao ciao Scusa eh Ma il gioco mi odia Ma che cosa sta facendo ora? Sta volando Non lo so So solo che Sei stata eliminata Adesso la posso fare una partita io? Ma bene Voglio assolutamente arrivare in finale Ma prima ho bisogno di una ruota della fortuna Sì voglio trovare un personaggio speciale Ti prego fammi trovare un personaggio speciale Sono molto triste No dai era solo la tua prima partita Ma che schifo è questa skin? Ho trovato una mummia Scheletri mummia Cioè è bruttissima Vabbè utilizziamola Ok mummia fammi arrivare in finale Vi dimostrerò come vincere una partita su StumbleGuys Arriverò primo Sì arriverò primo Ma tu sei mai arrivato primo? Assolutamente sì Alla mia prima partita tra l'altro E poi non ho più vinto Wow Oh il tuo stesso livello Ninna Oh dai vediamo Vediamo se sei più bravo di me a farlo È difficilissimo Parto per primo Parto per primo Che fortuna Sei già ultimo Ok No Aia Ok Sono vivo Sono vivo Calmi Calmi Devo scusare È difficile eh Eh me ne sono accorto E poi se qualcuno ti fa così No Ninna non ci provare Non ci provare Voglio Voglio vincere Ninna Oh sei una rompiscatole palsacchiotta Ok Eh dai però sei Sei in un buon punto penso Sì Credo anch'io No Ecco sono stato colpito Ecco qua Ti immagini se non ti qualifichi nemmeno Beh sarebbe molto divertente No non sarebbe affatto divertente Ninna Non sarebbe affatto Divertente No 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 Chi Oh sì Ok qualificato Per un pelo Per un pelo Mi è andata bene Sono in totale 4 i round di stumble guys Ok Quindi ecco per avvincere ne devo fare ancora 3 Allora vediamo se passi il secondo Adesso ti faccio vedere io Siamo rimasti in 16 Ok E la prossima partita da fare è E E E E No non l'ho mai fatto questo Che cos'è Mi sa che è quello in cui devi scegliere la piattaforma giusta Se no Cadi No Sono già caduto Sì Ok Ok questa è quella corretta Poi questa Ok Poi questa E poi questa E adesso dove andiamo Dove andiamo Uh Questa è giusta Devo andare a destra secondo me Mi sacrifico io No Sì Sì Ora sacrificatevi voi però Ok bravi Matti devi correre No 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 Io mi fido di loro Vai a sinistra Vai a sinistra Sinistra Ok sinistra Avanti Ok No Sì Ce la faccio No Ce la faccio Sì Qualificato La nostra strategia ha funzionato Bellissimo questo livello Adesso siamo rimasti solo in otto Ma forse mi sbagliavo La finale è già ora Siamo in otto Sei sicuro? Boh scopriamolo Falzacchiotti se vinco Questa varietà Mamma mia Divento il campione Di stumble guys Evita i laser Oh no Questo è difficilissimo Fa molta paura Lo ammetto Ok E che cosa devo fare? Oh mamma mia Salta Ok Uno è già morto Due sono già morti No no Allora questa Questa cosa mi sta mettendo Un'ansia incredibile Ninna Uno Salta Idea Ok Spingi qualcuno Verso il laser No non so come Oh no Oh no Oh no Salta Sono vivo Sì Non so come E ora? E ora devi saltare di nuovo No No Ma non è vero Vabbè Vabbè È impossibile questa cosa È impossibile Io sarei già morto No Sono morto Non c'è il campione Di stumble guys Uffa Sono rimasti solo in due Ma guarda quanti laser Ecco E appena perso Anche quest'altra partita Uffa Era arrivato in finale Non è giusto Però Ninna Mi dispiace Piccolo Matti Mi prenderò la mia rivincita Sappilo Diventerò la più brava Ora mi andrò ad allenare Tutto il giorno Ok va bene Così almeno vedremo Chi sarà il primo a vincere Per oggi possiamo dire Che sono stato Io il vincitore Sì Per oggi Grazie a tutti